salve a tutti manda mmseri benvenuti in una nuova puntata qui sul canale spero siete bene sia tutto a posto come ogni martedì e venerdì ore 19 e 30 italiane trovate un nuovo video sul canale video di oggi lo dice da titolo appunto fa parte della rubrica che voi tanto amate perché siete una sudista avete problemi mentali fatevi vedere domande del car risposte de me questa rubrica così innovativa voi ovvero voi ovvero fate potremmo fare un rap potrebbe diventare l'it della prossima estate dopo appunto la moria delle vacche io guardo anche persone infinite oltre che non c'essa in un emerito case dicevo e questa rubrica molto innovativa dove voi mi fate le domande indovinate un po io vi rispondo ma in tempi complici quindi voi quando avete perso la speranza tac vi rispondo partecipare semplicissimo lasciate un commento nella sezione apposita e io vi rispondo quindi partiamo subito da una veterana di questa sezione ovvero la cara alice che mi chiede quali sono le cose io ho qui il mio dg ovvero computer al quale sputerò addosso ogni tanto perché siamo a farsi una certa età e quindi la saliva perde un po di controllo ma non è per questo per i miei problemi di vecchiaia che vi ho qui riuniti alice mi chiede quali sono le cose che ti ricordano l'infanzia se aggetti che profumi rumori situazioni allora la prima cosa che mi viene in mente in termini di profumi è sicuramente quello dell'olio per i bambini ma non l'olio johnson bensì l'olio per cucinare per i neonati perché appunto è l'odore delle prime pappeto eventualmente perché l'odore intenso che un olio extravergine niente di che era l'olio che si che compravamo mai in farmacia per nutrire anche il fratello e quindi era questo il primo odore che mi viene in mente dell'infanzia nonché mi vengono in mente i giochi essendo io bambina degli anni 80 sicuramente è un trenino che si mettevano i dischetti e quello camminava e cantava non so che faceva e soprattutto a fattoria parlante degli animali un ricordo bellissimo non che l'albero di natale l'albero di natale a me ricorda l'infanzia spero di esserti stata utile un saluto passiamo però poi a laura laura mi chiede sia il get ready e mi ringrazia per la risposta di una di una puntata precedente il get ready with me ho pensato che lo voglio fare però in un format diverso ovvero non fare un video statico bensì una live se avete preferenza di orario e giorno fatemi sapere pensavo a una domenica che una giornata dove bene o male tutti non lavorano e quindi farlo una domenica pomeriggio tutti insieme facciamo un vero get ready with me live vedete se vi piace l'idea lo potremmo fare se non lavoro anche questa domenica fatemi sapere non dormite ciao laura poi abbiamo black woman 6 che mi chiede anche dei video del cin sul cinema si ritorneranno anche quelli fatemi organizzare e poi chiuscina che io saluto quindi ho visto a salutare tutti quanti circolarmente non circolarmente diagonalmente cristina mi chiede se potessi scegli un personaggio nei panni del quale vivere in un film serie tv un libro quale sarebbe bacini bacetti allora sicuramente sarebbe per un per il cinema dustin hoffman del laureato io vorrei essere proprio dustin hoffman il laureato super spoilerone ma penso di averlo detto altre volte è il mio film in assoluto preferito quindi si sarei sicuramente quel personaggio perché in varie parti in varie situazioni e momenti dell'area della mia vita io mi rivedo in dustin hoffman uno che aveva una vita preparata bellissima e poi la manda a fanculo così ma va bene quindi penso che sarei lui serie televisiva forse un personaggio di twin peaks ma mi cagherei anche sotto dei stati in peaks quindi non lo so sì perché anche altre serie televisive che vi ho citato nell'altro domande del ca che vi metto sempre qui nelle schede a una playlist al riguardo anche volter white di breaking bad no vivrei troppo con l'ansia quindi sarei un personaggio diciamo tranquillo forse gloria dei mother family anche perché io faccio ridere con la soprattutto quando mi arrabbio la mia pronuncia italiana si sente tanto in inglese quindi forse sarei loro e per quel che per quel di un fi e di un libro con tante b di un libro forse uno dei personaggi dell'amica geniale ma non so chi sarei non so se sarei se chi potrei essere tra la cattivissima lila o la un po che imbambolata le nu quindi non lo so spero di avervi soddisfatto di averti soddisfatta questa risposta con questa risposta cristina poi abbiamo sempre laura che mi chiede altre domande del ca da grande appassionata di mi cap quale sei può essere che ti pongo una domanda davvero del ca ma della faccio lo stesso si deve mandare chi è lecito rispondere cortesia possedere tanti prodotti sicuramente in numero superiore alle normali esigenze lo vedi come una esagerazione uno spreco mi scuso se do l'impressione di essere bacchettura no in assoluto anche perché esprime il concetto con molta educazione e poi riesce a sfruttare tutto a un piano secondo il quale fai girare i prodotti allora sicuramente io ammetto che tutto il make up che ho a disposizione lo consuperò mai no perché dovrei essere la diaga lì degli occhi dovrei avere occhi da tutte parti bucchi da tutte parti non li finirei mai è uno spreco sì ma qua cito anche la mia amica cristelluna la cristel che dice ovviamente ognuno investe i soldi come meglio crede perché comunque il make up mi rendo conto essere proprio il mio vizio capitale ancora perché non non spendo tantissimo investiti né in accessori ma non perché non abbia la possibilità economica di farlo adesso ovviamente siamo tutti quanti con le banine un poco t-rex non spendiamo e spendiamo però il make up sì il make up rimane la mia sessione perché è proprio una cosa di cui sono appassionata e quindi ho una grande gamma di prodotti che oggettivamente non potrò mai finire però essendo la mia passione mi interessa anche un po studiare i prodotti e soprattutto la mia curiosità certo è che soprattutto nel durante i periodi di lockdown durante anche i periodi di mie crisi esistenziali faccio come sto facendo ultimamente un po la classificazione ho notato che mi piace classificare delle cose donare le cose e quello che sto cercando comunque di fare è donare le cose che ovviamente sono in buono stato e che non uso più sono bravissima no però un mini decluttering piano piano baby steps giant steps che il mio nuovo mantra ci sto riuscendo per quel che concerne il tipo di acquisto no continua acquistare ben più rispetto alle mie reali necessità però cerco anche di non fare non andare in prodotti che già so che per me sono un fail quindi continua a spendere tanto ma in maniera più ragionata e poi alla tua domanda riesce a sfruttare tutto dipende tantissimo perché soprattutto questo è molto è molto connesso al mio segno zodiacale pure potete o meno crederci ovvero sono del segno del cancro e quindi sono molto abitudinaria quindi mi piace abitudinaria con tantissime b quante ce ne vuoi mettere tu e quindi mi piace sempre che sfruttare sempre gli stessi prodotti tuttavia cerco di far girare quanto più possibile i miei prodotti ma mi rendo conto che alcuni prodotti per ovvie ragioni rimangano sepolti nel cassetto salvo poi recuperarli come le mummie quindi riutilizzarli quindi un po una ruota ma riesco a usare tutto al cento per cento no però devo dire che sto anche nella fase che sto dando un po di cose spero di averti risposto abbastanza profusamente laura poi passiamo all'altro video perché non so perché ho due video a cui non mi avevo risposto e mi dispiace tanto ovvero tiziano che mi saluta e saluto poi lisa mi chiede qual è il viaggio da turista che ricordi più con più piacere questo ve lo rispondo subitissimo è proprio un viaggio sapete quei viaggi che ti cambiano la vita che ti è piaciuto tantissimo sicuramente il vietnam con marianna il vietnam con marianna per me è stato uno dei viaggi più belli che abbia fatto nella mia vita il paese l'energia che mi ha dato alla marianna è piaciuto anche e stare insieme a lei comunque vale sempre l'esperienza con marianna anche nel cesso io vado non è che siamo andate letteralmente nel cesso non ricordo in particolare però già viaggiare con lei è un'esperienza ma anche stare a casa con lei sarà un'esperienza sicuramente però è un paese ricco di cultura poi i vietnamiti sono cazzuti ho capito perché hanno vinto la guerra loro i vietnamiti sono cazzuti ma soprattutto hanno un'abilità di dormire sopra le motociclette non so come cazzo fanno io ho visto gente anche anziana dormire in equilibrio sulle biciclette fare e squat sono bravissimi hanno il mio massimissimo rispetto quindi un paese anche in cui mi piacerebbe ritornare e poi mi dice qual è la prossima meta che ti piacerebbe visitare lasciando stare la pandemia in corso grazie allora elisa io ti dico la verità proprio ultimamente e di questi giorni il mio pensiero maturato proprio il pensiero di non escludere nessuna meta ovvero ho sempre detto fino adesso che giappone i fiordi non mi piacciono non mi non mi interessano tuttavia tuttavia mi sono resa conto proprio ultimamente la vecchiarda che mi si sta venendo fuori sta ripaventando la sua esistenza più che ripaventare sta facendo presente la sua esistenza e quindi la vita è solo una penso che forse non saranno i primi della lista stiamo a dubai con tante b che sapete non riscontrare i miei pareri favorevoli a prioristicamente perché io questi prodotti questi persone questi paesi non li conosco quindi la prossima meta salvo pandemia mi piacerebbe tantissimo visitare ancora un paese del sud est asiatico tantissimo mi piacerebbe tantissimo e proprio nei miei sogni c'è tahiti e il belise non so perché può darsi che vada e mi fanno schifo e attenzione però questi sono i paesi in cui mi piacerebbe andare se ci fosse il la staffa più complicata di quello che mi hai chiesto la domanda immaginate bellissimo l'ufficio complicazioni affari semplici sono io allora se venisse il genio della lampada e mi dicesse germà proprio così è napoletano un genio napoletano e mi dicesse germà ma dove vuoi andare bellezza mia dove vuoi andare un po' anche come federico salvatore parlerebbe bellezza mia dove vuoi andare io direi portami in belize portami in belize o tahiti tahiti o belize stanno 50 50 però adesso tutto il mondo mi piacerebbe tantissimo con la marianna ancora di più con la marianna la marianna quella che c'ha ha in mente delle mete cazzute quindi la marianna per me è la migliore compagna di viaggio non me l'hai chiesto ve lo dico io così e va bene e parlando di amiche c'è un'altra amica qui la maria che mi chiede tornerai a fare tutorial di trucco sì non tutorial nel senso di insegno qualche cosa è più che altro i get ready per farci compagnia per vedere anche io come utilizzo i prodotti ma a livello molto amatoriale perché giustamente anche questa riflessione di questi giorni in effetti io non ho la presunzione di essere come sempre una make up artist eccetera ma non solo se truccano le make up artist se truccano anche le persone normalissime come noi e quindi certo però mi piacerebbe tantissimo farlo in un formato live come dicevo poc'anzi in modo da esserci più interazione queste sono le domande del ca della settimana io vi ringrazio io vi ringrazio per la partecipazione mi raccomando dormite non dormite ma fatemi sapere altre domande del ca altre curiosità ma su tutto e non solo sul make up parliamo proprio in generale della vita possiamo utilizzare questa rubrica per parlare della qualsiasi e della qualunque sempre con educazione e basta e con tante occlusive con tante paretali con tante labiale con tante fricative chi ha fatto l'esame di glottologia capisce di che cazzo a parlare detto questo io vi saluto se volete se il video vi è piaciuto come sempre il vostro momento di cliccare e sopportare nonché sopportare piacete condividete fate quello che il vostro cuore con la cu ve dice io vi aspetto al prossimo video un abbraccio statemi bene e alla prossima ciao ciao